Il mod in cui ci siamo mossi per questa collezione 2015 è ispirato molto a un lifestyle divertito in linea con quelle che sono le nostre ispirazioni anche nel mondo abbigliamento, nel mondo apparel con dei concetti colori brillanti, particolari con un ritorno al gold il mondo sta chiedendo il colore in questo momento sta chiedendo l'immagine sicuramente divertita, divertente anche un po' per i tempi che sicuramente sono un po' più grigi per cui è meglio divertirsi un po' con quello che si indossa in questo caso con quello che si calza lo stesso discorso ispira il nostro concetto sport che è una novità che noi presentiamo in questo MECAM che è una prima stagione importante per noi di vendita dopo due stagioni test che abbiamo fatto presentiamo un concept nuovo ispirato alla Videsciula sempre che è il lifestyle motive di Desigual quindi divertimento, tempo per se stessi, tempo per pensare fatica sì ma non fatica esagerata sulla calzatura stiamo sempre più portando la produzione nei paesi europei, in particolare in Spagna l'importanza della cura dell'artigianalità storica delle nostre regioni soprattutto su certi manufatti come la corda, come il mondo dell'esparto cioè la calzatura sul genere espadrilla tanto per non fare nomi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti